intervista dell'agile leader della lega al papete beach di milano marittima la lega alleato fedele quanto dura il governo deciderà il premier poi attacca conte un sabotatore eletta gli fa da palo i 5 stelle hanno più tribù della libia noi cerchiamo di tenere tutto insieme matteo salvini si aspetta un semestre bianco in cui la lega alleato fedele di mario draghi dovrà difendere la riforma del fisco e della pubblica amministrazione con le unghie e coi denti conte è chiaro che fa il suo lavoro di sabotatore dice non capisco letta che gli fa da palo attacca intervistato dai giornalisti tra un bagno e l'altro al papete beach di milano marittima ci insultano ogni giorno ma io non mi muovo di un millimetro vado avanti fino in fondo ieri conte sproloquiava sulla lega che fa ostruzionismo sui processi di mafia e l'esatto contrario ma draghi sa perfettamente di chi può fidarsi di chi no risponde il capo della lega e draghi sa che può fidarsi di lei draghi sa chi lavora per lui e per l'italia e chi lavora per il partito e gli interessi personali deciderà draghi se vuole andare a fare il presidente della repubblica risponde sicuramente i cinque stelle faranno qualsiasi cosa pur di non andare a votare noi stiamo lavorando sulla riforma delle pensioni sulla riforma di equitalia sul ritorno a scuola a fine anno scade quota 100 che oggi costa zero io non sono affezionato alle bandiere basta che non aumenti l'eta per andare in pensione con draghi ho parlato di riforma delle pensioni di cartelle di equitalia e di immigrazione abbiamo chiesto un tavolo a tre con la morgese che si sta dimostrando un ministro fantasma a 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 Grazie a tutti.